E' un nuovo video, io sono sempre Sequestione e oggi siamo tornati con un altro episodio di Time Preview, sempre della storia della lampada magica. Sono molto perplessa, però mi sono fatta il conto e in realtà mancherebbero soltanto questo episodio e un altro per finire, diciamo fra virgolette, la Ruth di Kair. Siccome io ho la curiosità, me l'accollo di farlo, spero abbiate la curiosità, insomma, anche voi. E niente, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati, guardare Web Monthly Favorites e leggere il weekly postaggio che si trova nello stesso canale. Se volete seguire altri giochi nel canale trovate tutto il Darya di Origins e la New Era con Nevra, poi trovate Dolce Flirt Armin, quello nuovo insomma, e tutto Mullet Lovers, tutte le Ruth. E niente, se volete supportare me il canale potete farlo dando un'occhiata al link Kofi in descrizione o anche al link Vinted. Detto questo direi di continuare, io sono un po' stanca. Allora, non posso starmene qui seduta mentre il primo ministro cerca di impossessarsi del palazzo, devo aiutare Kair. Noi dovremmo avere la benevolenza con Sherazad, dovremmo, quindi spero di passare abbastanza presto. Sì, siamo, allora qualcosa è servito a alzarla nell'altra rutta, insomma. Takir e io discutiamo il nostro piano di fuga, mentre le guardie fanno un pisolino. Le chiavi sono sul muro, accanto al tavolo da pranzo delle guardie, di solito non se le portano in giro. Fammi pensare, in quali circostanze le guardie porterebbero le chiavi nelle celle? Mentre penso a una risposta, mi strofino inconsciamente il rubino nella mano. Ho un'idea! Geniale Takir, bisogna del tuo aiuto per inscenare uno spettacolo. Passo il rubino a Takir attraverso le sbarre di ferro e gli sussurro il mio piano all'orecchio. Per evitare inutili guai, decido di non dirgli da dove viene e mento dicendo che me lo ha dato Simbad. Ok. Quando abbiamo finito di pianificare, Takir si sdraia sul fieno della sua cella e finge di dormire, mentre io aspetto il momento giusto. Poco dopo, un rumore nel corridoio indica che una guardia si è svegliata. Mi avvicino alla porta della cella e la vedo mettere via i piatti e uscire dalla prigione, mentre l'altra guardia giace distesa sul tavolo russa. Ok. Quel tipo potrebbe tornare presto, quindi dobbiamo fare in fretta. Come d'accordo, Takir si ragomitola, tremando e gemendo. Comincia a bussare alla porta della cella. Ehi, guardia, venite presto! Perché tutto questo rumore? La guardia, stravaccata sul tavolo, si sveglia e viene verso di me con gli occhi spenti. Sta morendo, venite presto! Cosa combina adesso? Sciocca. L'uomo nella cella accanto, sta molto male, non smette di tremare. La guardia guarda Takir sdraia a terra e ride. Oh, come ha fatto il potente comandante della guardia reale a trasformarsi in un gattino malato? Andate a chiamare un dottore, presto, potrebbe morire. Il primo ministro lo farà comunque giustiziare presto, potrebbe anche non vedere sorgere il sole domani. Se morisse ora, ci risparmierebbe la fatica. C'è qualcosa di luccicante nel fiano dove è disteso. La guardia si è rallontanata con uno sbadiglio, ma torna alla porta della cella, strizzando gli occhi mentre guarda dentro. Nella cella buia, la luce della finestrella brilla sul rubino, rendendolo ancora più luminoso. Improvvisamente vigile, la guardia prende rapidamente le chiavi e apre la porta della cella. La guardia dà un calcio a Takir, vedendo che Takir non risponde, raccoglie il rubino con un sorriso. Eh eh, un tesoro come questo non deve andare sprecato per un prigioniero condannato a morte. Deve essere riempito le tasche abusando della sua autorità, va confiscato. Il guardiano giocarella con il rubino soddisfatto. Appena si volta, Takir salta improvvisamente in piedi. Well. Dopo aver messo fuori combattimento la guardia e aver preso le chiavi, Takir mi restituisce il rubino. Dobbiamo andarcene prima che qualcuno ci trovi. Dobbiamo cambiarci, le nostre identità saranno evidenti se rimarremo in questi uniformi. Hai ragione. Ok. Ci cambiamo, io non ho idea di come vestirmi, ma voi vedrete il look finale. Ok, sì, ci è andata più che bene per questo di qua. Non male. Allora. Fuori scopro che ha smesso di piovere. Il primo ministro avrà rinchiuso Kair da qualche parte. Dobbiamo salvarlo. Il primo ministro potrebbe uccidere Kair se non ci sbrighiamo. Non dobbiamo preoccuparci della sicurezza del principe in questo momento. Il primo ministro ha ancora bisogno di lui per costringere il re. Dobbiamo prima di tutto garantire la sicurezza del re. Spero che non sia troppo tardi. Non c'è tempo da perdere, generale Takir. Raffrettiamoci a raggiungere la camera del re. Ahimè, se non fosse per questa crisi non metterei mai in pericolo una ragazza giovane come te. Kair è un amico importante per me. Farò di tutto per aiutarlo. Il generale Takir mi dà una pacca sulla spalla e fa accenno di approvazione. Ok. Quando arriviamo nella camera del re, vediamo due guardie alla porta. Per fortuna non ci sono altri soldati in vista. Takir coglie l'attimo e fa fuori le guardie così velocemente che non emettono nemmeno un suono. Trasciniamo le guardie svenute nei cespugli, affrerrando le chiave della camera da letto da una delle cinture. Ok. Generale Takir, perché siete qui? Chi è questa ragazza? Sono Gina, un'amica di Kair. Ho partecipato a un banchetto a palazzo, forse non vi ricordate di me. Mi ricordo, hai salvato la vita di sua maestà e partecipato alla cerimonia di investitura del principe ereditario. Cosa fai insieme al generale Takir? Vostra maestà, la situazione è terribile. Vi dirò tutto una volta fuggiti da palazzo. Scorterò voi e sua maestà lontano da qui mentre è ancora buio e poi cercherò di salvare il principe. Non funzionerà. La regina mette un pesante sospiro. Seguendo il suo sguardo vedo il re disteso sul letto. Il re ha avuto una ricaduta quest'autunno e dorme per la maggior parte del tempo. È troppo difficile per lui allontanarsi in queste condizioni. Ma non potete restare qui seduti ad aspettare la morte. Il primo ministro non commetterà il peccato di regicidio, a meno che non abbia altra scelta. Vuole che abbandoniamo la speranza e ci consegniamo il trono. Il primo ministro ha chiaramente lanciato un incantesimo maligno sul re. Quell'incantesimo non gli ha tolto la vita. Prima dell'investitura di Caire, il primo ministro teneva ancora le redini del potere. Sarebbe salita al trono se il re fosse rimasto addormentato. Vostra maestà, le cose sono cambiate. Sono certo che il primo ministro stia facendo un tentativo disperato di prendere il potere. Non potete rimandare tutto questo. Il primo ministro perderà presto... Non ho letto. Aspetta. Ho scoperto che c'è questo. Il primo ministro perderà presto la pazienza. Ok, scoperto che c'è la clessidra, che mi dimentico perennemente che c'è per poter rileggere i dialoghi vecchi. Il re provvisamente mette un gemito. Takir e io guardiamo entrambi verso il letto e la regina si precipita al fianco del re. Il re cerca di alzare la mano destra e di indicare un arazzo sul muro proprio di fronte a lui. Sua mestà vuole quest'arazzo. Mi avvicino al muro. Quando cerco di togliere l'arazzo scopro un nascondiglio dietro di esso. All'interno della nicchia c'è un panno traslucido piegato su un piatto d'oro. Gina, di che si tratta? Tiro fuori con attenzione il piatto e lo metto accanto al letto. Questo è il mio mantello d'argento. La regina lo raccoglie incredula e lo apre dolcemente. L'abito è sottile come le ali di una libella. Delicato è splendido. Non sembra appartenere a questo regno. Shalazad, il palazzo è sotto il controllo dei ribelli. Non puoi stare qui. Con questo mantello puoi usare la magia per fuggire. Non preoccuparti per me. Vai presto. Usare la magia. Sua mestà è una maga. Vengo da una famiglia di maghi delle province occidentali. Questo mantello d'argento è un cimello di famiglia. Più di anni fa, quando le province occidentali hanno promesso fedeltà al regno, io e il mantello d'argento siamo stati donati alla famiglia reale in segno di lealtà. E ora il re sta cercando di restituirmi la libertà. Con le lacrime agli occhi, la voce della regina trema mentre tiene la mano del re. So che hai sempre avuto nostalgia di casa. Ho pensato spesso di restiturti il mantello, ma temevo che te ne andassi e non tornassi in più. Il vecchio re tossisce mentre parla e la regina si ète sul bordo del letto, accarezzandogli dolcemente la schiena. Mi infastidiva il pensiero di essere solo qualcosa di carino da guardare, come un uccello in gabbia. Ma gli anni trascorsi con te mi hanno reso molto felice. Non posso abbandonarti in un momento di crisi. Vabbè, io direi incoraggiare la regina a rimanere, visto che lo ama tanto. Vostra mestà, la regina non può andarsene con la coscienza pulita se voi siete ancora in pericolo, giusto? Inoltre non solo il palazzo è stato conquistato, ma la capitale brulica dei libelli che lavorano per il primo ministro. Non è sicuro per sua mestà andarsene da sola. È meglio che rimanga, troveremo una soluzione insieme. Gina ha ragione, devo restare qui a tenerti compagnia durante la crisi. Inoltre con il mantello d'argento possiamo cambiare le cose. Come funziona il mantello d'argento? Basta solo indossarlo e puoi apparire come chiunque tu decida. È fantastico, vostra mestà me lo prestereste, posso trasformarmi in un potente guerriero. Poi il generale taquillo io lo scarceremo ribelli, temo che non accadrà. Il mantello d'argento crea solo un'illusione, cambiando l'aspetto e la voce di chi lo indossa. E non importa quanto siate abili, due combattenti non sono sufficienti. Bene, allora posso trasformarmi in qualcuno che può muoversi liberamente nel palazzo. Poi qualunque cosa accada, sono in grado di fare ogni genere di cose per gestire la situazione. È improvvisamente ispirata a vivere una idea meravigliosa. È trasformati nel primo ministro. Ovviamente. Esatto, posso trasformarmi nel primo ministro. In questo modo posso dare ordine ai ribelli, liberare Kair e smobilitare i ribelli delle province occidentali. E se incontrassi il primo ministro in persona? Se questo accadrà combatterò contro di lui e condurrò i ribelli alla loro fine. Non si possono ingannare così facilmente gli scagnozzi del primo ministro. Verrai uccisa. Quando scopriranno il tuo stratagemma? Il destino del regno e della luna piena è in bilico. Non fate niente di avventato. Giusto, in questo caso... Ok, mi trasformarò in Chiappur, va bene. Potrete trasformarmi in Chiappur, l'astrologo di palazzo assunto dal primo ministro. Chiappur? A pensarci bene, sono giorni che non lo vedo a palazzo. Mi è capitato di ascoltare per caso una conversazione tra il primo ministro e Chiappur il giorno nella cerimonia di investitore del principe ereditario. Immagino che sia sempre stato consapevole del complotto del primo ministro, ma non ha voluto partecipare a questo colpo di stato. Se prendessi le sue sembiazze, avrei libero accesso al palazzo e potrei cercare informazioni senza dovermi imbattere in lui. Ok, dividiamoci. Pensate un modo per trovare e salvare il principe. Vado a cercare le vecchie truppe della guardia reale, che per lo più stanno solo obbedendo al primo ministro sotto minaccia. Se riusciremo a radunarli, potremo combattere i ribelli. Generale Tachir Regina, contiamo su di voi. Proteggerò sua maestà. Se il primo ministro cercherà di costringerlo ad abdicare, prenderò il tempo... Perderò? Prenderò tempo? Non preoccupatevi, maestà. Abbiate cura di voi e aspettateci. Ok. Abbiamo completato la fase. Continuiamo con la seconda, visto che questa è la seconda lineare. Ok. Fase 12. Sì, ce l'abbiamo la benevolenza con cosa 5, finalmente. Usa il mantello di argento per travestirmi da Ciappur e trovare Kair. Riusciremo a fermare la ribellione e a riportare la pace nel regno prima dell'alba. Ok. Facciamo questa fase. Ok. Ok. Il mantello d'argento è leggero come una piuma. Nel momento in cui lo indosso, sono avvolta da una luce bianca. Recito l'incantesimo insegnatomi dalla regina. Dopo pochi secondi, la luce bianca scompare e provo una sensazione di calore. Il mantello d'argento si è fuso con la mia pelle. Ok. Quando apro gli occhi, ho già assunto l'aspetto di Ciappur. Cof, cof. La mia voce ora è così bassa, non ci sono abituata. Imitando l'andatura di Ciappur, cammino nervosamente lungo i corridoi del palazzo. La regina ha spiegato che l'illusione del mantello d'argento è un limite di tempo. Devo arrivare da Cagliere prima di tornare nei miei panni. Vedo ombre tremolanti di uomini che tengono in mano delle torce e l'atmosfera sembra tesa. Cosa sta succedendo? Devo scoprirlo. Seguo le voci e la luce. Lord Ciappur. Penso aveste lasciato il palazzo fuori dalla biblioteca reale. Due guardi mi si avvicinano di sorpresa. Ho una grande confusione in testa, ma sono comunque ancora in grado di imitare con compostezza il tono di Ciappur. C'è stato un cambio di programma. Il primo ministro mi ha chiesto di controllare la situazione. L'ex comandante della guardia reale è evasto di prigione. Anche una donna assassina è scomparsa. Il primo ministro è furioso e ha ordinato una perquisizione approfondita del palazzo. Onno, il primo ministro sa già della nostra fuga. Se non trovo Cair non incontro presto Tachir. Il nostro piano potrebbe fallire. Rimango calma e mi scherisco la gola. Dobbiamo concentrarci sul re, la regina e il principe. Sono merce di scambio importante e dobbiamo fare in modo che questi due fuggitivi non sabotino i piani del primo ministro. Non temete Lord Ciappur. Stiamo andando a rinchiudere il principe in prigione. Il comandante ci ha ordinato di aumentare le guardie carcerarie per impedire la fuga di chiunque altro. Possiamo contare anche sulle guardie. Come sono riusciti a fuggire quei due? E perché ci sono solo due guardie a scortare il principe? Se venisse rapito da Tachir lungo il tragitto? Beh, il primo ministro prepara tutto questo da mesi. Non dobbiamo correre i rischi. Scorterò il principe con voi. Solo con l'aiuto della magia possiamo essere al sicuro. Sì, vostra signoria. Questa è la cosa più intelligente che sia successo finora. Seguo le guardie fino alla stanza dove è tenuto Cair. Con il protesto di interrogare il principe lascia due guardie fuori dalla porta e dentro da sola. Ok. Ciappur. Siete qui per cantare le lodi di mio zio o per fare il suo sporco lavoro? Torna a essere Gina, ovviamente. Recito un incantesimo proprio per dissipare l'illusione e torna nei miei panni. Cair spalanca la bocca e un sorriso mi attraversa il volto. Ah, che ne dici? Scommetto che non ti aspettavi che fossi io. Gina, perché sei qui? Lo zio non ti ha cacciato dal palazzo. Come hai fatto a fidarti di quel cattivo? Appena uscita dallo studio sono stata sbattuta in prigione. Non ha nemmeno lasciato libera una ragazza innocente. Che malvagità. Come hai fatto a sfuggire e trasformarti in Ciappur? È una lunga storia. Racconta a Ciappur tutto quello che è successo da quando sono stata sbattuta in prigione. Cair mi guarda sbalordito. Quando finisco di raccontare la storia si sente in colpa. Non sono stato in grado di proteggerti. Tu sei venuta a salvarmi. Vi vergogno tanto. Grazie Gina. Mi hai salvato ancora una volta in un momento di crisi. Come hai detto prima, siamo amici per la vita. Andiamo Cair. Il re e la regina ci aspettano con il generale Takir. È il momento di contrattaccare. La pallida luce del mattino brilla attraverso la finestra illuminando tutto ciò che si trova all'interno della stanza. I disordini dovrebbero essere finiti ora che è l'alba. Cair afferra l'elsa della sua scimitarra. Ok. Accompagno Cair mentre combatte contro soldati a caso che bloccano la strada e mi precipito nella camera del re. Ma arrivano sempre più guarde e ci intrappolano prima di riuscire a raggiungerla. Accidenti, la camera del re è poco più avanti. Non avrebbero potuto scegliere un momento peggiore per presentarsi. Gina, niente panico. Resta indietro di me e io ti proteggerò. Non sprecare le tue energie, mio caro nipote. La tua lotta è inutile. Finalmente noto che il primo ministro è in piedi dietro le guardie e che ci guarda dall'alto in basso. Questa miserabile ragazza deve essere arrivata con un messaggio segreto per te, giusto? Unite le forze di Tachir e combattete. Non siate sciocco, nipote. Il palazzo è stato isolato e la guardia reale ora è sotto il mio commando. A causa della vostra sconsideratezza, quel brutto Tachir è come un animale messo all'angolo. Zio, forse il vero animale nell'angolo sei tu. O opprimere il popolo, incastrire i sudditi fedeli, rapire il principe ereditario e tramare un reicicidio. La tua brama di potere ti ha fatto impazzire e colminerà solo con la tua morte. Silenzio. Sempre affringere di essere un santo, anche di fronte alla morte. Siete proprio come vostro padre. Ho lavorato sodo per tanti anni come primo ministro, ma alla fine cosa ottengo? Il vostro ipocrita e spreggevole padre vi ha fatto principe ereditario. Questo perché sua maestà è un re ed è un buon giudice delle persone. Non consegnerebbe mai regno a un mascalzone come te. Sai, stai al tuo posto, miserabile ragazza. Avrei dovuto ucciderti quando non ho avuto la possibilità. Perché restare là fermi? Prendeteli. Le guardie attaccano i suoi ordini. Data la loro superiorità numerica, riusciamo a malapena difenderci. Kair. Proprio mentre una guardia sta per infilzare Kair, qualcuno buzza in avanti e devia la lancia. Nessuno alzerà un dito su soltezza finché ci sarò io. Kair, alla guida di un gruppo di uomini fedeli, si getta nella mischia per affrontare le guardie del primo ministro. Urla minaccioso e le guardie davanti inciampano gli indietro per paura. È solo un uomo disperato. Di cosa avete paura? Uccidetelo. Le guardie si muovono con esitazione. Hanno paura di avvicinarsi. Un bagliore attraversa il cielo in lontananza. Il palazzo è momentaneamente immerso nella luce. Kair, guarda, che cos'è? Un sorriso si diffonde sul volto del primo ministro mentre guardia il cielo. Questo è il segnale che indica che i miei sforzi sono arrivati. L'esercito delle province orientali ha circondato il palazzo. Pensavate davvero che un... Occidentali? Orientali? Non ricordo. Pensavate davvero che un giovane rampollo come voi potesse competere con l'esperienza dei miei anni, Kair? Guardo con ansia Kair che non sembra minimamente allarmato. A questo punto una guardia arriva correndo in preda al panico. Vostra signoria, il palazzo è stato circondato dall'esercito delle province occidentali. Occidentali? È l'esercito orientale, idiota. Di quali sciocchette stai parlando? Ah, ok. È vero, l'esercito sta sventolando la bandiera delle province occidentali e stanno gridando a basse ribelli uccidete il primo ministro. Cosa? Ripeti, ripeti cosa hai detto. Furioso il primo ministro afferra il messaggio. Te l'ho detto che sei tu quello con le spalle al muro, zio. Il primo ministro osserva incredulo Kair. Cosa avete fatto, moccioso? Zio, hai perso. Prima della cerimonia di investitura, ho informato segretamente le province occidentali di mobilitare le truppe per proteggere il re. Se non fosse stato per questo temporale e improvviso, non avresti mai avuto la possibilità di minacciare mio padre e mia madre. Quindi, sapevate già? Avete una bella faccia d'ostra, ragazzo. Il primo ministro si tira indietro, improvvisamente si volta, afferra la scimitarra di una guardia e la punta verso Kair. Piccola canaglia, non pensate di aver vinto. Devo solo uccidere subito voi e vostro padre e diventerò un re. Il primo ministro muove rapidamente la scimitarra contro Kair, ma Kair gliela toglie dalle mani, quindi il primo ministro cade a terra. Kair punta la lama alla gora del primo ministro. È finita ora, zio, arrenditi. Così? Il primo ministro viene portato via e il cielo comincia a diventare più luminoso, il sole sta per sorgere. Alla luce dell'alba guardo il volto determinato di Kair e so che è diventato molto più forte di prima. Kair ordina i suoi uomini di sbattere il primo ministro in prigione e viene precessato per tradimento. La maggior parte dei membri della guardia reale vengono graziati, tranne i pochi scagnozzi personali del primo ministro. Il palazzo riacquista una parvenza di tranquillità e la lunga notte è finalmente finita. Il generale Takir si unirà all'esercito occidentale per eliminare qualche arresto delle forze orientali. Manderò qualcuno a scortarlo fino a casa non appena la via sarà libera. Il re e la regina sono al sicuro, devo restituire il mantello d'argento alla regina. È solo che non so come togliermelo, sembra attaccata la mia pelle. Entrambi i miei genitori sono al sicuro adesso, ma mia madre è un po' stanca, sta riposando. Puoi restituire il mantello la prossima volta che verrai al palazzo. L'aria di inizio autunno è un po' fredda e non posso fare a meno di rabbrivedire un po'. Oh no, mi dispiace, non mi ero accorto che andavi in giro con quei vestiti leggeri. Le cameriere ti daranno qualcosa di più caldo da indossare. Ecco, questo cambio d'abito è forzato in questo caso. E quando ci sono questi cambi d'abiti forzati, mi sembra un po' brutto. Cioè, nel senso, cambialo e non lo mettere, metti soltanto narrativa, non è d'obbligo. Ok, abbiamo un buono, sì, ci accontentiamo, insomma. Ok. All'epoca sospettavo semplicemente che le province orientali stessero tramando qualcosa, ma non sapevo cosa fosse. Così ho contattato il governatore delle province occidentali e ho messo un informatore vicino a mio zio per scoprire cosa avesse a che fare. Quindi ti stai preparando da allora. Quando ti hanno portato via, sì, stavo recitando. Davvero? Ero così preoccupata per te. Perché non mi hai detto niente? Era ora la terza domanda. Non avevo previsto la forte pioggia che ha ritardato l'arrivo dei rinforzi ed ero un po' agitato quando la mia spia è stata allontanata e il generale Takir è stato sbattuto in prigione. Cair mi prende la mano e mi guarda dolcemente. Se non fossi stata così intraprendente salvando il generale Takir e occupandoti dei miei genitori, le cose non sarebbero andate così. Grazie, Gina. Sei la ragione per cui abbiamo evitato molti spargimenti di sangue nella notte. Volevo solo aiutarti, tutto qui. Vostra altezza e il governatore delle province occidentali vi attendono nella sala principale. Ho tante cose da dirti, ma ho appena ristabilito l'ordine del palazzo e devo occuparmi prima delle questioni ufficiali. Beh, dovrei andare anch'io. Light mi aspetta. Quando la lampada sarà riparata ti porterò Light e ti ringraziare di persona. D'accordo, ti aspetto. Ok. Ah, torniamo a casa. Ma quando torno a casa la lampada magica non è più al suo posto accanto al mio cuscino. Cerco in ogni angolo e chiedo a tutti di casa ma non si trova da nessuna parte. Il mio armadio non è stato manomesso e a parte la lampada magica tutto il resto è ancora nella mia stanza. Ma questa non è la tua stanza. Anche la borsa. Perché un ladro dovrebbe lasciare i soldi e prendere invece una vecchia lampada malconcia? Un nome mi balena nella mente all'improvviso e un brivido mi corre lungo la schiena. Chapur, non era tra le forze dei ribelli, non si è fatto vedere durante il colpo di stato. Sarà stato alla ricerca della lampada magica. Come ho potuto essere così sbadata? Sono devastata, ma la rabbia e frustrazione non risolvono nulla. Devo trovare Chapur e le recuperare la lampada magica. Non so da quanto tempo sia sparita, né dove possa averla portata. Dove può essere andato prima di prendere la lampada e quali preparativi ha fatto? Ci sono. La camera dell'astrologia e del palazzo. Forse posso trovare qualche indizio. Dicevi di tornare al palazzo e chiedere aiuto a caire. Ok. Anche questa è una fase molto lineare. Cioè davvero, come non ne vedevo, è da un po' di tempo. Forse a fine delle prime volte di Light mi ha aiutato a fare dei progressi per non riprovarmi impreparata in questa. Un punto di vista. Grazie a Dio mio. Ok, continuiamo con la fase 13. Io ce l'ho questo vestito? Non lo so. Vedremo. Illusioni di sabbie mobili. Cahier e io ci troviamo in una strana mappa delle note di Chapur. Ci condurrà da lui e da Light. Cahier e io entriamo nella stanza di Chapur nella camera d'astrologia. Raggi di luce trafiggono le tenebre. I libri sono ammucchiati ovunque all'interno della stanza a fioca e piena di incenso. Credo che Chapur sia ossessionato dalla magia nera. Ci sono moltissimi libri stranieri sull'antica magia nera che è stata vietata nel regno della luna piena. Cahier prende un libro da terra e lo sfoglia. Cercherò qualche indizio nello scaffale laggiù. Sfoglio diversi libri appunti, ipnotizzati dalla strana scrittura e dai simboli. Un vecchio libro con la copertina color verde scuro cattura la mia attenzione. Credo che ci sia qualcosa tra le pagine. Quando tolgo il libro dallo scaffale cade una pergamena. Ok. Ce l'abbiamo fatta? È una mappa? Cahier si avvicina e gli mostro la mappa. Guarda, questo segno qui indica un punto nel deserto a nord-ovest della capitale. C'è qualcosa di strano in questa mappa. È chiaramente una mappa della capitale e dei suoi dintorni. Ma tutti i toponimi che vi sono scritti sono dell'antica dinastia. L'antica dinastia. Perché Chapur dovrebbe avere qualcosa che risale all'antica dinastia? Borbottando tra me e me sfoglio le pagine del libro. La scrittura sembra la grafia di Chapur. Le pagine giallite sono piene di incantesimi e di disegni strani di ogni tipo. Giro un'altra pagina e scopro un tratto disegnato a mano. Questo è l'autoritratto di Chapur? No, aspetta. Il disegno di assomiglia. Ma l'uomo in questo ritratto sembra molto più vecchio di Chapur. Questo volto. L'ho visto nei libri di storia. Era l'ultimo re della precedente dinastia. Lo chiamano l'ultimo tiranno. L'ultimo tiranno. Qualcosa a che fare con i disegni di 70 anni fa? Sì, il re è impazzito perché il suo unico figlio è scivolato e non sono senza fine. Ha cercato di svegliare suo figlio con la magia nera. Ha giustiziato un ministro patriottico che voleva combattere contro di lui ed ha fatto arrabbiare il popolo. Alla fine una folla ha preso d'assalto la capitale per evitare che il tiranno facesse altri danni ed è morto a palazzo. Dopo l'istituzione del regno della luna piena l'uso della magia è stato limitato per evitare di ripetersi di questa tragedia. Ma perché Chapur avrebbe dovuto disegnare un ritratto dell'ex re? Forse c'è qualche collegamento. Continuo a sfogliare le pagine del libro cercando di trovare altri indizi. A questo punto noto... Una poesia sul frontespizio? Che strano! Si tratta di una poesia bella e rasserenante. Sembra fuori posto in questo taccuino pieno di incantesimi. Caerea legge versi a bassa voce. Sembra pensieroso. Se la memoria non mi inganna. Questo è un discorso di congratulazioni della cerimonia per il titolo di principe. Cerimonia per il titolo. Nelle narrazioni desertiche i principi sono insigniti di un titolo nobiliare simbolico come parte del loro rito di passaggio. Nel palazzo si svolgono spesso cerimonie maestose e i discorsi sono scritti da poeti del palazzo a questo scopo. Questo discorso è particolarmente famoso perché è stato scritto dallo stesso ultimo tiranno per il suo amato figlio. Non c'è da stupirti che quei versi siano così semplici, sinceri e pieni di emozione. Se il suo figlio non si fosse ammalato forse non sarebbe diventato l'ultimo tiranno. Purtroppo questi versi non portano nuovi indizi. Continuo a leggere le note. Presto scoprirò qualcos'altro. Una firma sull'ultima pagina. C'è qualche parola barrata appena prima della firma di Ciappur ed è davvero strano. Perché qualcuno dovrebbe rovinare la propria firma? Strizzando gli occhi riesco a distinguere la parola sotto lo scarabocchio. Ghi-Ghiat? Ghiat. Credo di aver già sentito questo nome. Oh, l'ho visto nei registri della famiglia reale nella biblioteca. Ghiat è stato l'ultimo principe della precedente dinastia ed è l'unico figlio dell'ultimo tiranno. Ciappur assomiglia all'ultimo tiranno e ha firmato come Ghiat. Potrebbe essere... Ghiat? Questo è ciò che mi dice il mio intuito. Ma l'ultimo tiranno non è riuscito a svegliare suo figlio 70 anni fa. Si dice che quando l'esercito ribello entrò nel palazzo tirò il tiranno morto nella stanza di Ghiat, presumibilmente a causa dell'uso improprio della magia nera. E Ghiat è morto anche lui? Non si parla del suo destino nei libri di storia. Spero ci sono però alcune voci su di lui. La gente ipotizza che l'ossessione di Ghiat per la magia nera sia la ragione per cui si è ammalato. E Ciappur non è anche ossessionato dalla magia nera. Forse non è mai morto. E se fosse stato risvegliato dalla magia nera 70 anni fa? 70 anni fa Ghiat aveva 18 anni. Anche se fosse sopravvissuto e disordine ora sarebbe un uomo molto vecchio. Ciappur non può essere Ghiat. È troppo giovane. Ma se si mantenesse giovane con la magia nera? Potrebbe essere una magia spazio-temporale. La maggior parte dei libri di Ciappur sono legate alla magia spazio-temporale. Non ne so molto di magia, ma ho sentito dire che la magia spazio-temporale è la più pericolosa di tutte. Si dice che debba essere usata un manufatto per ottimizzare il potere di questa magia nera. La lampada magica. Ecco perché Ciappur ricercava la lampada magica. Se è davvero Ghiat, sono sicura che ha qualche obiettivo in mente. È un ex principe, si infiltra nel palazzo e complottato con il primo ministro. Temo che quello che vuole sia vendetta. Il viso di Kair diventa pallido. Oh signore. Kair interroga il primo ministro per saperne di più su Ciappur, ma senza successo. Per ora la mappa trovata nelle note di Ciappur è il nostro unico indizio. Kair e io decidiamo di andare nel deserto nord-ovest della capitale per trovare il luogo segnato sulla mappa. Ok. Lascio una lettera per Simbad la mattina della nostra partenza. Mi dispiace molto Simbad, ma questa forfantella sta di nuovo sgattaiolando via. Se torno sono e salvo, prometto di lavorare sodio e di smettere di andare a Zonzo. Non so quanto dovremmo camminare, il deserto può diventare gelido di notte, così decido di mettere un abbigliamento caldo e pratico. Ok. Andiamo dritto, dritto di consigliati. Ok, ci siamo. Ci siamo anche abbastanza. Ok. Allora, prima di partire mi guardo di nuovo intorno, controllando tutti gli armadi e cassetti per assicurarmi che non manchi nulla. Nell'armadietto vicino al mio letto trovo il ciondolo che avevo con me quando sono arrivata. Proprio come prima il cristallo del ciondolo brilla di una luce misteriosa ma confortante. Se sei davvero il mio portafortuna ti prego di benedire la mia visione e farmi trovare la lampada magica. Appendendo il ciondolo invita. Sì, beh, è una cosa molto intelligente che stai facendo. Cairo e io ci avventuriamo nel deserto protetti da un gruppo di soldati scelti. In basso ai nostri calcoli la posizione segnata sulla mappia dovrebbe essere vicina. Controllate i nostri registri istagio che ci ha scoperto che l'ultimo tiranno ha costruito un capanno di caccia per Ghiat qui. Se è qui che si nasconde Shapura allora potrebbe davvero essere Ghiat. Se siamo vicini perché vediamo solo la sabbia nel deserto intorno a noi? Non si vede nemmeno una scuca su pola di fango. Figuriamoci un capanno di caccia. Improvvisamente davanti a noi si sentono grida dei soldati e il nitrio di cavalli spaventati. Attenzione, sono sabbie mobili. Proteggete la vostra altezza. Gli soldati precipitano nel caos. Kair mi prende la mano e ci fermiamo, ma è troppo tardi. Stiamo già cominciando ad affondare. Come se si fosse stata afferrata da mani invisibili e più mi sforzo più a fondo. Kair! Gina! Tieni forte me e non mollare. Gli tengo stretta la mano e veniamo inghiottiti dal mare di sabbia. Sto fluttuando nell'oscurità come un granello di polvere. Non ho idea di dove sia diretta. Sento una voce debole che chiama dolcemente il mio nome. Gina! 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 Quello è... Kair! Meraviglioso! Finalmente ti sei svegliata! Dove siamo? È un'illusione probabilmente. Nella mia stanza. Sei rimasta cosciente per 15 giorni. Incosciente. Non ti ricordi? Siamo stati risucchiati nelle sabbie mobili e abbiamo quasi perso la vita. Fortunatamente il generale Takir è arrivato con i suoi soldati appena in tempo salvandoci tutti. Quindi siamo tornati a mani vuote. No! Mentre tu eri priva di senti ho inviato un gran numero di truppe nel tesorto per intagare. Non ho trovato l'ex capanno di caccia del principe che era esattamente dove diceva la mappa. Ma il capanno è crollato ed è quasi completamente sprofondato sotto le dune lasciando solo rovine. E c'è pure la lampada magica ordinato ai soldati di scavare tra le rovine. Dopo tre giorni e tre notti hanno trovato un altare fatiscente e il corpo di Ciappurre. Ma non sono riusciti a trovare la lampada magica. Oh no! Le sabbie mobili sono pericolose. Molti soldati sarebbero morti se avessero continuato a scavare. Quindi abbiamo dovuto smettere. Mi dispiace tanto Gina. Io capisco. Sono triste per Light proprio come te. Ma ora che è finita devo riprendermi e onorare il mio accordo con lui. Accordo? Dopo aver ottenuto le scuome del serpente dorato ed essere tornati a palazzo Light mi ha chiesto qualcosa. Ha detto che se mai fosse scomparso avrei dovuto prendermi cura di te e realizzare i tuoi sogni. Ricordo improvvisamente Light che sussurrava qualcosa a caire la notte in cui siamo tornati dal serpente. Sì, ok, ce lo ricordiamo tutti, basta che ci rivediamo. È un segreto tra me e il principe. Quando siete diventati così intimi? Sì, ok, sì, sì, ce lo ricordiamo. Però questo qui è solo un'illusione. Light è sempre stato così burbero ma gentile, arrogante ma presuntoso. Non ho fatto niente per lui. Non mi sono nemmeno accorta che qualcosa non andava finché non è stato troppo tardi. Gina smettila di sentirti in colpa. Light non vorrebbe che lo facessi. Rimettiti in sesto. Abbiamo ancora molti ostacoli da superare. Caire mi prende la mano e mi guarda con tenerezza. Dobbiamo ristabilire l'ordine e l'armonia dopo tutto quello che è successo. Mio padre è ancora confinato a letto, quindi devo assumermi questa responsabilità. Gina, mi aiuterai? Sono solo una serviziette di Jay Simbad. Come potrei aiutarti a governare il regno? Hai recuperato le squame del serpente dorato, hai risolto la crisi durante il colpo di stato e hai indicato la vera identità di Chapur. Hai salvato il regno dal pericolo di molte volte. Nessun saggio potrebbe mai paragonarsi a un servitore accorto e pieno di risorse come te. Il suo sguardo appassionato mi fa rossire. E' chi nel capo, incapace di guardarlo negli occhi. Gina, sposa, mi farò il mio meglio per proteggerci. Non è questo il capitolo in cui ti sposeremo. Prendimi cura di te e realizzare i tuoi sogni. Questo è ciò che ho promesso a Light, ma anche il mio desiderio più profondo. Per favore, accetta. Io... No. No. Incerta, scuoto la testa. No. Prima, Light. No, non posso sposarti. Perché no? Non vuoi stare con me? Mi sento così disorientata. Chapur è davvero morto nelle sabbie mobili e la lampada magica è stata sepolta insieme ai suoi piani valvaggi. È finito tutto così in fretta e stranamente. C'è qualcosa che non va. Sei stata incosciente per tanto tempo. Ci varrà un po' prima che ti renda conto della realtà. È tutto finito e siamo sopravvissuti. Il regno della luna ha appena evitato una crisi. Perché preoccuparsi di cercare altri problemi, Gina? Meriti di goderti la pace e la felicità per il resto della tua vita. Perché Kair dice una cosa così egoista. Non è fatta da lui. Scrutto l'uomo che mi sta davanti al suo sorriso mi sembra sempre più strano. Tu non sei Kair. Ah, Gina, ridicolo. Sei di nuovo stordita. Sdraia e ti riposati un po', ok? Kair cammina verso di me con uno sguardo preoccupato sul volto e io mi allontano istintivamente, ma non riesco a distogliere lo sguardo sui suoi occhi. Sono coversi magnetici e la mia mente comincia ad annebbiarsi. Teni un tono da Gina, impostore. Il grido improvviso mi spaventa e mi sento come se fossi stata risvegliata da un sogno. Gina, non sei a palazzo. Tutto quello che vedi è un'illusione. Siamo ancora nel deserto e Light aspetta di essere salvato. Chi sei? Perché mi stai impersonando e dice assordità? Perché ci sono due Kair? Gina, vieni qui. Dobbiamo fuggire dal miraggio. Non osare portare via Gina. Kair accanto a me, estrae la sua scimitarra e punta verso il secondo Kair. Ok. Molto figa come illustrazione. I due Kair si affrontano l'uno contro l'altro, uno risoluto e l'altro furioso. Non avere paura, Gina. Una volta che mi sarò liberato di questo intruso, nessun altro ci darà più fastidio. Kair accanto a me, mi stringe forte il braccio. La sua ferocia mi spaventa. Hai, lasciami andare. Non sei il vero Kair. Lotto con tutte le mie forze, mi libero e corro verso l'altro Kair. Non andrai da nessuna parte. Devi restare qui con me per sempre. Il forzo Kair solleva la sua scimitarra, con collera la punta verso di me. Il vero Kair si precipita al mio fianco e la blocca, lasciandola a terra. Il finto Kair geme, i suoi lineamenti iniziano a sfumare, tutto intorno a lui inizia a deformarsi. Ok. In un batter d'occhio siamo di nuovo al del deserto. Vento freddo della notte mi soffia la sabbia in faccia. La stanza e il finto Kair sono spariti. Siamo al sicuro ora? Sì, non siamo più nel miraggio. Ci sono pezzi di armature e attrezzature esposte sulla sabbia. Siamo tornati dove eravamo sprofondati nelle sabbie mobili. Le sabbie mobili hanno inghiottito tutti i soldati e i cavalli. Sono sepolti nelle sabbie mobili o persi in un miraggio. Ma mia madre mi dice sempre che qui le sabbie mobili intrappolano le persone tirandole con meravigliose illusioni. Una volta stregati non si può più tornare indietro. Ci è mancato poco. La visione falsa di te mi ha quasi ingannato. Sapeva tutto quello che ho passato. Sembrava in grado di leggere i miei ricordi. Ciò che le persone vedono nel miraggio si basa sui loro più segreti più profondi. L'oscurità nei nostri cuori è il vero male. Il finto principe cercava di intrappolarmi con la mia stessa vigliaccheria. Con la mia stessa vigliaccheria. Sei arrivato giusto in tempo. Aspetta, come hai fatto a trovarmi? Perché non hai avuto un miraggio anche tu? Ho visto un enorme specchio. Tu e il finto principe eravate dentro lo specchio. Ma tu non potevi vedere e la mia voce non poteva raggiungerti. Quando hai capito l'illusione lo specchio si è affrantumato. Sono stata improvvisamente in grado di fuggire. Mi ha salvato Gina. Grazie per aver visto il vero male. Non mi aspettavo che sfuggessi al miraggio. Immagino che tu non sia così inutile dopo tutto. Ridammi la lampada magica, sporca ladra. Sporco ladro? Nelle stupide manine la lampada magica è buona solo per trucchi appariscenti. Io tuttavia posso dimostrare il suo vero valore. Ciappur alza la bacchetta e recita uno strano incantesimo. La sabbia sotto i suoi piedi comincia a muoversi rapidamente in cerchio formando un vortice. E quindi? Visto che siete arrivati fin qui vi lascerò assistere a un grande miracolo prima di morire. Dal vortice emergono lentamente rovine dissestate. La lampada magica alleggia sopra le rovine, a volte in un minaccioso fumo nero. Ok, abbiamo finito la fase. Molto carina comunque l'illustrazione. E comunque tutto sommato questa. È stata un'ottima cosa di sottolineare. Nel prossimo episodio che vedremo. Quindi state aggiornati insomma. E niente, io vi invito a raccontare i video dei video che magari sono dei video più interessanti. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, quindi vedete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.